quali sono i dieci edifici più cercati su google mi è sembrato interessante capire cosa piace alla gente che sicuramente non sono architetti ma appunto tutta la popolazione che quindi è curioso sapere cosa le persone vanno a cercare probabilmente non è soltanto da un punto di vista architettonico quanto 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 anche culturale come per visitare un posto per visitare come vedremo un museo o un qualche attrazione nelle varie città però ecco mi sembrava interessante mi piace parlarne anche per fare un giro del mondo tra le architetture passando da quella contemporanea quella più antica da uno stile a un altro insomma da una parte all'altra del mondo e quindi non vi annoierò con troppe informazioni solo una carrellata per vedere quindi quali sono questi dieci edifici più cercati su google il primo è il burshi califa di dubai che è stato realizzato dalla studio soma la studio di architettura ingegneria insomma americano molto importante soma che sta per skidmore owings and merrill ma di questo edificio ve ne ho veramente già parlato ampiamente e quindi vi rimando al podcast che avevo fatto appositamente per questo importante edificio prova a mettere il link nelle descrizioni basta sapere che l'edificio più alto al mondo attualmente di 828 metri quindi ovviamente è un edificio importante bello da vedere e quindi come abbiamo visto anche il più cercato sul web al secondo posto troviamo la tour eiffel di parigi la tour eiffel che in realtà non la ritengo proprio una architettura quanto un esercizio ingegneristico beh è ovvio che si trova a parigi è stata realizzata nel 1889 dall'ingegnere gustave eiffel fatta nell'89 per per un'esposizione internazionale cioè quella che oggi chiameremo per l'expo e doveva essere tra l'altro smontata al termine dell'esposizione internazionale in realtà ce l'abbiamo lì ancora oggi ed è diventata una delle attrazioni più importante di parigi ma evidentemente anche tra le più ricercate sul web nel mondo al terzo posto cambiamo parte del mondo quindi siamo già andati a dubai parigi e adesso andiamo ad angra in india e quindi al terzo posto troviamo il Taj Mahal giustamente è un'architettura incredibile è stata fatta nel 1632 ed è una costruzione durata 20 anni per cui il famosissimo complesso dei più notevoli esempi di architettura mughal che combina influenze indiane persiane islamiche e tra l'altro adesso non ricordo esattamente però c'è un'importante storia d'amore per cui l'edificio era stato fatto per una mate insomma adesso non voglio entrare troppo nei dettagli sicuramente un'architettura affascinante bella del 1632 come dicevo pensavo fosse più recente poi al quarto posto troviamo l'Empire State Building di New York e l'importantissimo grattacielo completato nel 1931 per cui tra l'altro è entrato in numerosi film e ha un'importanza non solo architettonica che è un periodo dell'art déco un esempio di art déco ed edifici di altissima altezza di quel periodo ovviamente è entrato nella storia anche dell'architettura ma anche nell'immaginario collettivo appunto per i numerosi film in cui è entrato come anche King Kong o cose del genere vabbè in ogni caso stando nell'ambito architettonico è rimasto per oltre 40 anni il grattacielo più alto del mondo che raggiunge un'altezza di 381 metri ma se consideriamo anche l'antenna 431 metri quindi ancora oggi è uno tra i grattacieli comunque più alti nonostante come vi ho detto all'inizio il più alto è 800 quindi il passo è stato decisamente notevole però ricordiamo che è del 1930 ed è stato tra l'altro realizzato dallo studio Shreve Lamb & Harmon Associates che riuscì a presentare il progetto con un tempo record di sole due settimane non so come si faccia un grattacielo in due settimane sicuramente era magari una parte provvisoria e preliminare ma insomma due settimane per un grattacielo è decisamente veloce comunque un gran bel edificio storico e insomma importante poi passiamo al museo del Louvre a Parigi torniamo a Parigi è il museo del Louvre che ovviamente come architettura è un'architettura del parte del 1500 voluto dal re Filippo Augusto anzi nel 1100 come Castello Fortezza ma che poi insomma è stato modificato per come già vediamo il grande edificio che costituisce il museo del Louvre ma poi anche architettonicamente a me interessa anche e soprattutto l'ingresso che è stato creato da molto più recente nel 1989 dal progetto di Yao Ming Pei che è questa importante piramide vetrata anche questa entrata nei film per esempio era nel film Angeli e Demoni con Tom Hanks anche questo il museo del Louvre ovviamente molto molto importante magari la ricerca non è soltanto fatta allo scopo della piramide come architettura ma proprio come museo immagino grazie a tutti